Stiamo proponendo un progetto di legge per il parto a domicilio. Quello che vorremmo fare è permettere alle donne di scegliere dove partorire, partorire dove si sentono più serene. Attualmente, gratuitamente, è permesso farlo solo negli ospedali e noi invece vorremmo allargare la possibilità di scelta di parto anche a casa propria o nelle case del parto. Perché? Perché a casa propria c'è un ambiente diverso, più sereno, familiare. Perché molte donne già in Europa scelgono di farlo a casa propria. In Olanda, per esempio, più del 30% delle donne partoriscono a casa propria. Perché il parto è un evento fisiologico e nel momento in cui io ho una gravidanza a basso rischio posso farlo tranquillamente a casa mia. Chiaramente però in sicurezza. Ed è quello dove vorremmo andare ad intervenire con questo progetto di legge. Quindi noi stiamo proponendo che la donna che decide di partorire in casa possa essere seguita gratuitamente da un'ostetrica nell'ultimo periodo della gravidanza, durante il parto e nei primi giorni di vita del neonato. E che venga allertata un'autoambulanza pronta ad intervenire immediatamente in caso di emergenza. Riteniamo che una donna debba essere libera di scegliere dove partorire. Perché il parto deve essere un evento sereno, il più sereno possibile, sia per la mamma che per il bambino. Vi invitiamo quindi a dirci la vostra opinione su questo progetto di legge e speriamo che gli interventi siano davvero numerosi perché è un argomento veramente importante soprattutto per noi donne. Grazie.